E un'ultima notizia, incontro tra Bra e Saint-Pont, località francese dalla quale sono partiti nonno e padre di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Dopo anni di indagini, Livio Bramardi, Pio Giverso e Giacomo Berrino, insieme al superiore della piccola casa della Divina Providenza, Dollino Piano e il vice Aldo Sarotto, il parroco di Bra e suor Maria Teresa della famiglia del Santo, sono stati a Saint-Pont per celebrare e rilanciare un patto di amicizia tra la cittadina della Provenza e Bra. A suggellare la ritrovata amicizia nata tra i due comuni, i braidesi hanno portato un grande dipinto del Cottolengo. La delegazione è stata accolta dal sindaco Michel Nicolaou e da tutto il Consiglio Comunale.